Dopo l'addio forzato a Tevo il senior, dove è stato co-act della prima edizione insieme alla figlia Jasmine,Albano C.A.R.R.I.S.I. è pronto ad una nuova sfida televisiva Il prossimo 16 ottobre scenderà in pista a Ballando con le stelle Milly C.A.R.L.U.C.C.I. ha fortemente voluto il cantante pugliese nel cast della nuova edizione È stata Milly Carlucci ad ufficializzare la presenza di Albano nel Varietà di Rai 1 sulle pagine del settimanale di più Conferma arrivata poi anche da Carrisi in diretta a Uno Weekend, il programma di Anna Falchi e Beppe Convertini Le X, marito di Romina P.O.A.W.E.R. non ha nascosto una certa preoccupazione per questa nuova avventura Due punti, no me tocca Erano anni che con Milly parlavamo Devi venire a Ballando? Ma io non sono capace, ho sempre difeso bene tutto ciò che ho fatto, perché devo far crollare tutto per colpa di un ballo.Punto di domanda tu non ti preoccupare, sei in mano all'arte Mi fido di Milly, e dei suoi collaboratori Sottolineo Io non so ballare.A.L.B.A.N. Ho aggiunto due punti Il Valzer lo ballo bene, il tango ci provavo da ragazzino La mattonella era il ballo che mi piaceva di più, perché era l'unico momento in cui tu potevi avere tra le braccia la donna che sceglievi Per tre minuti stava lì con te Una gioia indefinibile e incredibile a Ballando con S.T.E.L.L.E. arriverà a Loredana L.E.C.C.I.S.O. per il ballo della mattonella La showgirl potrebbe partecipare alla serata dedicata ai parenti anche se al momento, è ancora presto per dirlo Quel che è certo è che Milly Carlucci è davvero soddisfatta di aver convinto Carrisi a partecipare a Ballando con le stelle Pur di avere il 78enne nel cast La conduttrice Rai ha detto addio a U.N.A.Vecchia R.E.G.O.L.A. della sua trasmissione di successo Ovvero quella di non avere nel cast personaggi che hanno già partecipato a reality show Albano è stato infatti un naufrago dell'isola dei famosi, in coppia con la figlia Romina Junior, nel 2005 Un'esperienza indimenticabile? All'epoca Albano è stato scaricato in diretta TV, tramite una telefonata Da Loredana Lecciso A 16 anni di distanza i due hanno saputo ricucire il loro legame, e oggi formano una coppia solida e complice Però R.A. non è chiaro con chi ballerà a L.B.A.N.O. Carrisi a Ballando con le stelle Milly Carlucci sta valutando in questi giorni la ballerina più adatta Secondo i ben informati potrebbe spuntarla Alessandra Tripoli, che torna nello show dopo un anno di pausa dovuto alla maternità Chi sono i concorrenti di Ballando con le stelle? Milly Carlucci ha confermato solo due concorrenti ufficiali di I Ballando con le stelle? L.E. 2021 Albano Carrisi e Morgan Ma nel cast, dovrebbero esserci pure due punti Maddalena Corvaglia, Mietta, Valeria Fabrizi, Paola Barale, Fabio Galante, Federico Fashion Stile, Sabrina Salerno, DJ Albertino Ma nel cast, dovrebbero esserci pure due punti Maddalena Corvaglia, Mietta, L.B.A.N.O. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.